Viprit Karni Mudra Sdraiatevi sulla schiena Sollevate le gambe in posizione eretta assieme alla schiena e sostenete i fianchi con le mani, rimanete in questa posizione Sdraiatevi sulla schiena Sdraiatevi sulla schiena Sollevate le gambe in posizione eretta assieme alla schiena e sostenete i fianchi con le mani, rimanete in questa posizione Sdraiatevi Sdraiatevi Sdraiatevi